Primo importante incontro istituzionale per la nuova amministrazione comunale di Pietimonte nell'ambito di un progetto di cooperazione transnazionale con la Polonia, voluto e coordinato dal GAL Alto Casertano. Le due delegazioni si sono incontrate nell'aula consigliare del comune, ricevute dal vice sindaco Bernarda De Girolamo alla sua prima uscita con la fascia tricolore dall'assessore alla cultura lauredana Cerrone e dai vertici del GAL a margine dei lavori abbiamo raccolto per voi alcune impressioni sulle finalità del progetto per cui pregarei la regia di mandarli in onda. Devo dire che l'obiettivo prioritario di questo progetto è quello di mettere insieme le aree interne della Polonia con il nostro territorio. Diciamo che il territorio polacco che fa parte di questo progetto ha una struttura territoriale e abitetiva molto simile alla nostra. Soffre dei stessi problemi che soffriamo noi, che soffre il nostro territorio, quello dello spopolamento. Quindi l'obiettivo primario è quello di trovare delle strategie insieme, quindi ecco perché è importante il dialogo, il confronto anche con realtà internazionali per capire come realtà simili alla nostra possono dare questo input importante per evitare lo spopolamento delle aree interne. Assessore Cerrone, che significato ha la giornata di oggi, questo incontro di stamattina? Questa è una giornata molto significativa per noi perché rappresenta un primo evento importante nell'ambito di un progetto di cooperazione transnazionale rappresentato dal GAL con tre territori polacchi. Il progetto è nato nel 2015, poi per la pandemia si sono avute delle interruzioni, però nel mese di settembre i nostri delegati italiani sono stati ospitati con la stessa accoglienza e con la stessa partecipazione lì in Polonia. Quindi noi oggi abbiamo ritenuto molto importante accogliere questa delegazione e soprattutto rendere la visita poi presso il Museo Civico che rappresenta il polo culturale e dovrà rappresentarlo ancora di più per il nostro territorio, polo di attrazione dal punto di vista proprio culturale e sociale. Tant'è che il progetto del GAL rappresenta un progetto di cooperazione transnazionale ma di archiviazione sociale proprio perché degli studenti scelti presso il nostro istituto liceo scientifico Galileo Galilei hanno in collaborazione e stanno realizzando in collaborazione con gli studenti polacchi un video di importanza storica sia per l'Italia che per la Polonia riferito al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Qual è stata la vostra impresione venendo qui in città Piedimonte-Matteze? Jakie są Pana sensacje odnośnie tego przyjazdu, tej wizyty w Piedimonte-Matteze? Oczywiście pierwsze wrażenie, bo pierwszy raz jestem we Włoszech. Oczywiście bardzo mi się tu podoba. Jestem wiceprezesem lokalnej grupy działania Wspólny Trakt w Polsce, ale też zarazem jestem wójtem gminy Kowala w powiecie radomskim, województwo mazowieckie, 12 tys. mieszkańców. Allora, da prima vista sono affascinato da questa vista, da questo paese, dall'Italia stessa, ma anche Piedimonte-Matteze, le zone che visitiamo. In qualità del vice sindaco del mio GAL, che si chiama Wspólny Trakt, e anche in qualità del sindaco del paese Kowala, del comune Kowala, che ha 12.000 abitanti ed è situato ed è posizionato nella mazowie meridionale. Sono molto felice poter essere qui. Oczywiście takie wyjazdy są bardzo ważne i potrzebne. Chcielibyśmy w przyszłości... Queste trasferte, questi scambi internazionali sono molto utili e ritengo molto importante poter instaurare un rapporto di collaborazione e di gemellaggio a livello culturale e anche tra le scuole. Dall'aula consigliare del comune di Piedimonte è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it